e abbiano trovato qualcosa che si avvicina a quella che chiamano la particella di Dio. Lo sai? È chiamato il bosone. È una massa di una certa importanza. Se cerchi di osservare l'intero universo, non vedrai niente. Se semplicemente guardi un atomo, abbastanza intensamente, e se l'atomo si apre a te, allora sai com'è fatto l'intero universo. Ora non parlano più dell'atomo. Parlavano delle particelle subatomiche. Ora non parlano neanche più di quello. Quando due particelle subatomiche si scontrano, non atomi, quando due protoni si scontrano, ne viene fuori qualcosa. Vogliono vedere quello. Ma quando dici, sono sul sentiero dello yoga, nemmeno la particella minuscola ti interessa. Vuoi vedere lo spazio vuoto che mantiene tutto questo in posizione. È anche il loro desiderio, ma vi hanno... Come rinunciato? È anche il loro desiderio, che vogliono vedere cos'è che tiene insieme tutto questo. Ma loro sono abbastanza sensati da capire che con questi due occhi, con questi sensi, non possiamo vederlo. L'unico modo è di andare al punto più vicino e vederlo. Il punto più vicino è lontano come Timbuktu. Comprendi? Al momento... Non so se ti interessano queste cose, ma devi conoscere queste cose, perché hanno una relazione molto diretta con il sistema yogico. C'è stato un tempo in cui gli scienziati credevano, pensavano... Diciamo che questo è un atomo. È grande abbastanza finché lo vediate? Ok. Se questo è un atomo, protone, neutrone, elettrone, sono tutti inclusi qui come questi puntini. Pensavano che fosse così. Poi, quando sei arrivato alle superiori, hanno delineato un'immagine diversa. Hanno disegnato un cerchio centrale che contiene protone e neutrone. E gli elettroni girano intorno come pianeti, in diversi formati. Sì? Hai visto quelle immagini? Ma ora sanno che è del tutto sbagliato. E noi abbiamo sempre saputo che è del tutto sbagliato. Ecco perché i libri di testo non mi hanno mai interessato. Perché quando li guardavo sembravano stupidi. Oggi, supponi... supponi che questa è la dimensione del nucleo dell'atomo. Gli elettroni sono, diciamo, da qualche parte, approssimativamente lontani o meglio. Questo è il tipo di distanze. Capisci? Dentro un atomo. Un atomo non è così. Nessun essere umano ha mai visto un atomo. Lo sai questo? Dimentica un protone, neutrone, elettrone. Nessuno ha mai visto un atomo. Persino in un super microscopio elettronico. Non lo puoi vedere. In quello c'è un alloggiamento in cui si trovano i protoni, i neutroni e gli elettroni sono lontani circa un miglio. In confronto, in proporzione, dico. Quindi, qual è la sostanza più abbondante in questo? Il vuoto. Non è così? Ti abbiamo sempre detto, i sistemi yogici hanno sempre insistito che il microcosmo e il macrocosmo sono fatti nello stesso modo. Se conosci questo pezzo di vita, conoscerai ogni cosa nell'universo, perché è così che è fatto. Quando dicono, se conosci come si comportano questi bosoni e cosa sono, stanno dicendo, conosceremmo l'intero universo, il modo in cui l'universo è stato fatto, lo capiremo. Ma non capisci che anche tu sei un dannato bosone. Nello spazio cosmico sei solo un bosone. Quindi, vali quanto un bosone di Higgs nell'universo. Se osservi questo, se presti sufficiente attenzione a questo, conoscerai ogni cosa. Ma, se non hai mai neanche fatto attenzione a qualcosa intorno a te, fare attenzione a ciò che è dentro di te sarà fuori discussione. Grazie a tutti.